salve a tutti e bentornati qui in una nuova puntata di sai che dove su sai che web tv intanto un saluto a tutti quanti da io pino donato e da valeria e salutiamo anche i nostri collaboratori sebastiano arianna e sarà come sapete bene il nostro è un programma di video servizi informativi di utilità e informazione popolare e infatti oggi parleremo di arte cultura e storia religiosa della quinta e ultima parte del documentario dell'oasi del sacro cuore in santa maria dell'isola conversano in provincia di bari dove naturalmente così concludiamo questo iter storico che abbiamo fatto naturalmente ringraziando ancora una volta il nostro professore mario giannuzzi e ringraziamo anche il direttore del santa maria dell'isola don leonardo mastronardi di castellana grotta e ovviamente anche la comunità delle suore molto simpatiche e accoglienti allora naturalmente noi abbiamo visto tutto di questa bellissima struttura di questa bellissima isola è vero abbiamo scoperto che lì addirittura si può fare il ritiro spirituale anche dei congressi si mangia anche bene insomma un punto veramente bellissimo da tutti i punti di vista infatti qualcuno in più lo scoprirete in questo video sì allora naturalmente in questo video che cosa vedremo cosa si affaccia nel chiostro grande cosa sono i puteale e il fastigio cosa troviamo nel chiostro antico cosa scopriamo in alcune stanze utilizzate dal conte e allora proseguiamo con il racconto naturalmente sempre del professor mario giannuzzi venite in puglia venite a visitare il convento appena potete e se anche voi avete un sai che da suggerirci da raccontare contattateci per un pre intervista e poi c'è una piccola novità per iscriversi più facilmente al nostro canale nel video che state guardando anche adesso nella parte bassa a destra c'è un piccolo finestrino sai che un logo appunto basta cliccare sopra vi porta direttamente nel nostro canale dove vi potete iscrivere quindi vi aspettiamo ovviamente commettate parlate di voi raccontate un sai che una qualsiasi cosa noi siamo disponibili e vi aspettiamo e diteci se vi sono piaciuti ovviamente e quindi al prossimo sai che ciao 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 siamo all'oasi del sacro cuore in santa maria dell'isola a un chilometro dal centro abitato di conversano con il professor mario giannuzzi che ormai avete avuto modo di conoscere oggi per il sai che mario ci accompagna in questo cammino tra le bellezze dell'isola che non abbiamo ancora conosciuto mario dove ci porti ciao a tutti un carissimo saluto a donato a pino che armeggiano con le apparecchiature che consentono la trasmissione e un caro saluto anche a valeria che ha presentato me e la trasmissione di oggi nella puntata precedente ci siamo immersi nel chiostro grande di santa maria dell'isola e abbiamo ammirato nelle lunette che per tre lati circondano il chiostro la bellissima storia di giuseppe venduto dai fratelli che dalla palestina fu portato in egitto eccetera 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 ma queste cose le avete già viste sempre nel chiostro grande potremo ammirare alcune attrazioni diciamo così che possono così risvegliare la nostra curiosità sul chiostro grande per esempio si affaccia la sala convegni dedicata a monsignor raffaele marinelli il buon sacerdote che ebbe l'idea brillante di acquistare dai privati questo complesso grandioso artistico sempre sul chiostro grande si affaccia il refettorio l'attuale refettorio che può ospitare fino a 100 commensali è lo stesso refettorio che nei secoli precedenti è stato usato dai frati minori osservanti l'ambiente è stato restaurato ed è diventato estremamente accogliente ma una cosa bellissima che potremo ammirare al centro del chiostro grande è un puteale sotto il quale c'è un pozzo immenso un puteale in pietra meravigliosamente scolpito e sul puteale si innalza un meraviglioso fastigio in ferro battuto veramente un'opera d'arte realizzata da fabbri artigiani di quando? Forse di 300 anni fa 400 anni fa noi lo ammiriamo e rimaniamo a bocca aperta e adesso in compagnia di Donato di Pino e di Valeria ci avviamo verso il chiostro più antico di Santa Maria dell'Isola un chiostro del 300 che pochissimi hanno la fortuna di poter ammirare ma noi attraverso la tv siamo quei fortunati andiamo ed ecco ci troviamo in un posto pieno di fascino e mistero Mario dove ci troviamo? siamo nel chiostro più antico di Santa Maria dell'Isola è un chiostro che quasi certamente è stato realizzato almeno 700 anni fa forse dalla prima comunità di frati seguaci di San Francesco che sono venuti in questo territorio non abbiamo molte notizie sul periodo preciso quando è stato realizzato non sappiamo neanche precisamente chi ha voluto realizzarlo noi lo guardiamo lo ammiriamo lo contempliamo ci facciamo delle ipotesi quello che possiamo dire con certezza è che questo chiostro circa 60-70 anni fa era tutto in rovina cadente tant'è vero che dei quattro lati un lato non c'è più un altro lato ma adesso lo vedremo con calma ha richiesto necessariamente dei muri di contenimento ma adesso facciamo un bel percorso lungo tutti i lati di questo magnifico chiostro antico e racconteremo qualche altra cosa stando in questo chiostro trecentesco un pensiero di gratitudine va a Monsignor Raffaele Marinelli che acquistò tutto il complesso e un pensiero di gratitudine va anche a Don Leonardo Mastronardi attuale rettore di Santa Maria dell'Isola è stato proprio Don Leonardo che con tenacia con grande volontà si è impegnato per restaurare ciò che noi oggi possiamo contemplare nella sua bellezza anche se tante parti ci mancano e io invito gli amici che ci guardano ad osservare come facciamo anche noi la meraviglia di queste antichissime colonne che arredano tre lati del chiostro trecentesco due colonne insieme si levano dalla base verso l'alto due colonne diverse una è cilindrica l'altra invece è ottagonale due forme mistiche il cerchio e l'ottagono e le colonne potrete notarlo anche voi man mano che avanziamo si alternano nella posizione mentre qui vicino a me c'è una colonna cilindrica verso l'interno è una colonna ottagonale verso il centro del chiostro man mano che procedo vedremo che quella ottagonale andrà verso l'interno e quella cilindrica verso la parte centrale del chiostro in questo luogo laddove il silenzio diventa la caratteristica viene il desiderio di fermarsi sedersi contemplare guardare per esempio io guardo i capitelli delle varie colonne e facilmente posso notare come l'artista artista sconosciuto settecento anni fa e più ha realizzato i capitelli tutti uno diverso dall'altro con motivi che richiamano foglie fiori figure geometriche certamente possiamo dire che l'artista forse un frate francescano si è divertito nel realizzare colonne e capitelli di questo antichissimo chiostro la luce del sole penetra illumina il silenzio ci spinge a meditare a contemplare ma che luogo misterioso e meraviglioso insieme quanti capitelli uno diverso dall'altro alcuni hanno veramente un valore artistico che non avremmo mai pensato di trovare qui all'interno del convento di santa maria dell'isola c'è per esempio un magnifico capitello che rappresenta volti umani volti umani che affiancano un capitello con motivi presi dal mondo della natura ci siamo solamente noi in questo chiostro io con Valeria con Pino con Donato però la mia mente pensa come intorno a questi queste colonne questo colonnato tanti fratti francescani magari in silenzio giravano intorno intorno pregando meditando ma com'è la vita com'è la vita noi oggi fra un po' rientreremo alle nostre casse portando con noi questa bella visione che ci spinge a diventare anche più buoni via mi è venuto di dirlo e ve l'ho detto mi trovo in un angolo e l'angolo che guarda verso nord ovest così non importa dove guarda vicino a me notate così con una certa curiosità una trave in legno che resiste da centinaia e centinaia di anni resiste per essere l'architrave su cui poggia tutta la struttura sovrastante da questo angolo ci spostiamo fra poco nell'ambiente che era l'antica stalla dei monaci oggi non c'è più la stalla che cosa è diventata l'antica stalla e questa è la sorpresa che adesso vi sorprenderà la stalla di l'antica di di Eccoci all'interno di ciò che era l'antica stalla dei frati francescani di questo complesso conventuale. Ma se voi sapeste come era ridotto questo ambiente solo 30-40 anni fa, tutto cadente, pieno di materiale di risulta, pietre, terriccio, oggi invece è diventato questo antico ambiente, questa antica stalla è diventata una bella, semplice, accogliente cappella, una chiesa, sì, sì, dentro le mura del convento. E qui i gruppi che giungono nell'oasi del Sacro Cuore di Gesù in Santa Maria dell'Isola, i gruppi qui si fermano o per seguire la messa o per riflettere, per meditare. Che questa era l'antica stalla? Tutti quanti potrete constatarlo dagli anelli in pietra ancora inseriti nel muro qui alla mia destra e che certamente ci ricordano come le mucche venivano attaccate qui, sul pavimento c'erano le mangiatoie che ormai non ci sono più. Ma avete visto quante cose, quante meraviglie, quante bellezze l'isola ci riserva e che noi stiamo mettendo a vostra disposizione. Dopo aver ammirato tante bellezze, la chiesa, il chiostro seicentesco, il chiostro trecentesco, adesso abbiamo il privilegio, l'onore di poter salire ai piani superiori del convento di Santa Maria dell'Isola dove vive quotidianamente la comunità delle suore del Verbo incarnato che hanno la cura di questo magnifico complesso. Venite con noi. Benvenuti, benvenuti negli ambienti dell'Oasi del Sacro Cuore. Ecco qui, vicino a noi, c'è proprio la statua in legno del Sacro Cuore di Gesù che accoglie gli ospiti. Perché nell'Oasi, dove noi adesso ci troviamo, arrivano gruppi, possono essere sacerdoti, suore, laici, studenti, da ogni parte d'Italia. Nenquello che era l'antico convento francescano, sono state realizzate, con restauri e comfort moderni, varie stanze. Ci sono almeno 60 posti letto. La cucina, che avete avuto modo di osservare, penso nella puntata precedente, può far da mangiare ad almeno 100 persone. Ma adesso venite con noi. Vi accompagniamo in questa esplorazione dei corridoi, delle antiche celle, delle balconate e di tante altre cose belle che noi, per voi, riprendiamo con le nostre telecamere. Andiamo insieme a conoscere qualche stanza di questo accogliente corridoio. Valeria, andiamo? Andiamo. Pino ci riprende, ci accompagna. Eccoci qua. E' una stanza bella, accogliente nella sua semplicità. armadietto, letti, su un lato c'è il bagno privato e di fronte a me c'è anche addirittura un balconcino che sporge sull'agrumeto che appartiene all'oasi del Sacro Cuore. ognuno può trovare in questa stanza un momento o delle giornate di vero, autentico relax, fisico e spirituale. Ci siamo trasferiti negli ambienti soprastanti la Chiesa, quelli che guardano verso il mare Adriatico. Il sogno del Rettore Don Leonardo, ma anche il nostro sogno, il sogno di tutti, è di poter realizzare in questi ambienti che adesso vi presentiamo un piccolo museo dedicato a Santa Maria dell'Isola. Qui che cosa è stato conservato? Ciò che era rimasto è ricostruito dell'altare di San Pasquale. Giù nella Chiesa, proprio sotto il nostro pavimento, si trova soltanto la statua. Questo è l'altare che in parte si è salvato, altre parti purtroppo non ci sono più. Adagiati ai lati di questo altare noi troviamo due ve le mostro due tranci di corde appartenute a una nave dei Turchi. Nel 1571 il conte di Conversano dell'epoca partecipò alla battaglia navale di Lepanto laddove i Turchi furono sconfitti. Come trofeo il conte portò a Conversano i resti di questa nave turca che fu affondata. E se ci spostiamo leggermente troviamo anche un altro reperto antico è un fanone di balena. Veramente non saprei neanche spiegarvi come mai si trovi qui però so che da sempre appartiene alla Chiesa di Santa Maria dell'Isola. Adesso si trova in questo ambiente che come vi dicevo speriamo diventi un museo ma ci spostiamo in un'altra stanza sempre al piano soprastante la Chiesa. Quanti e quanti non hanno mai avuto la possibilità di vedere quello che adesso vi stiamo mostrando. Sono ancora i resti di un altro altare che giù nella Chiesa era stato smembrato. Pezzi che erano cadenti e che sono stati in parte restaurati in parte purtroppo non ci sono più. E adesso andiamo insieme in un ambiente di Santa Maria dell'Isola che veramente pochissimi conoscono. Questa stanza dove adesso mi soffermo era la stanza riservata per il conte e la contessa di Conversano quando venivano all'Isola per partecipare alle funzioni religiose. La stanza ci presenta in alto al centro la figura di Dio creatore. Se spostiamo il nostro sguardo nelle diverse lunette che circondano questa stanza vediamo rappresentati affrescati tante figure di Santi Francescani. Uno studio potrebbe individuare il nome di tutti questi Santi. Noi ci soffermiamo soprattutto su questa figura che ci rappresenta la Madonna Immacolata. Noi sappiamo che il dogma dell'Immacolata appartiene al secolo scorso all'Ottocento ma i Francescani da sempre hanno riconosciuto Maria esente dal peccato originale quelle che noi chiamiamo l'Immacolata. Quindi è la figura della Vergine Madre che sta in mezzo alla diciamo alla rappresentazione di tutti gli altri Francescani noi ecco rivolgiamo il nostro sguardo tutto intorno possiamo anche cogliere come fra una lunetta e l'altra c'è sempre un vaso di fiori ecco giriamo pian piano il nostro sguardo ecco un'altra Santa Francescana non vorrei sbagliarmi forse Santa Elisabetta d'Ungheria ma non ci metto la mano sul fuoco giriamo tutto intorno tutto intorno qui abbiamo addirittura la figura sembra di un sovrano che forse apparteneva ai Francescani o almeno al terzo ordine continuiamo a guardare ad ammirare ecco pian piano fra un po' ci soffermiamo ci soffermiamo su una Santa Francescana che certamente riconosciamo con certezza questa è Santa Chiara da Assisi la riconosciamo perché regge in mano una pisside con l'ostia consacrata che Santa Chiara si dice usò come arma contro i nemici che volevano assalire Assisi e il convento questa dunque era la stanza che accoglieva i conti ma i conti per partecipare alla messa come facevano lo scopriamo tra poco adesso mi sento nei panni quasi del conte di Conversano e da questa stanza accogliente mi reco in un balconcino che dall'alto della stanza mi permette di partecipare alle funzioni religiose seguitemi e così vi renderete conto anche voi del luogo in cui mi trovo è un balconcino questo ma da quassù posso seguire le funzioni religiose che si svolgono giù nella chiesa si può intravedere una parte del mausoleo si può intravedere il conte Andrea Matteo acquaviva d'Aragona che fece realizzare il cenotafio per il suo padre possiamo vedere da quassù anche la grande tela dei martiri francescani di Nagasaki e adesso rientriamo è una bellissima giornata abbiamo completato la visita di Santa Maria dell'Isola con tutto il convento annesso ci troviamo sui tetti di Santa Maria dell'Isola e stiamo per concludere questa meravigliosa avventura con una panoramica che riempie i nostri occhi di meraviglia di gioia di gioia vediamo o meglio vedete alle mie spalle sicuramente il campanile le campane le cupole della chiesa ma io quasi quasi mi emoziono non parlo più vi saluto ciao purtroppo anche questa avventura è terminata ringraziamo ancora tutti quanti la comunità delle suore Don Leonardo Mastronardi Mario Giannuzzi io Pino Donato tutti quanti e Valeria non dimenticare Valeria e anche Valeria grazie grazie a tutti è stata una bellissima esperienza una bellissima avventura una bellissima avventura mi suggerisce Pino vi ringraziamo tutti grazie a tutti e sai che puoi interessare o coinvolgere anche te grazie a tutti